Tifosi del Genoa Ciao a tutti i canali Ciao a tutti i canali Tifosi del Genoa venite a commentare Genoani venite a commentare Gilardino Gilardino vieni a commentare Vieni vieni Mica ti può andare sempre bene Genoani mica vi può andare sempre bene E così E la cabala gira Gira E la mica vi può andare sempre bene E fate venti falli con la regina E la regina si mangia un gol fatto Al novantacinquesimo Che grazie a Gesù Cristo Non va in rete Venite a Bari E che fate Vincite dopo venti secondi Quel gol che avete fatto Poi pareggiamo Poi fate quel gol in misca E mo shut up Adesso shut up Genoani lastrico Shut up adesso Ok Niente ragazzi Io Scusatemi questo piccolo preambolo No Perché naturalmente Il Bari va a vincere A Bolzano Col Sutirol Vince 1 a 0 Una gara ben orchestrata Dal mister Mignani Il Bari che rimane dentro la gara Per tutta la partita Poi il Sutirol rimane in 10 Mignani Che parte con una formazione Un po' attendista Ha la capacità Ha la capacità poi Di mettere dentro Ceter E Moracchioli E Moracchioli Fa un gol Ragazzi Non solo Un gol Molto importante Naturalmente Perché giocavamo Con la quarta In classifica Io non vedo tanto La classifica Per Scaramanzia Ma fa un gol Anche bellissimo Di rapina Di tecnica Di interno destro A ingannare i portieri Bari che meritava la vittoria Perché ha tenuto palla Ha fatto 65% di possesso Palla Sul tiro non ha mai tirato in porta Sul tiro non ha mai tirato in porta E niente Il Genoa è andato a pareggiare A Cuomo 2 a 2 Il Cuomo ha fatto due gol Il Genoa vinceva 2 a 0 Pensavano forse Avrebbe portato la partita a casa Invece Subiscono i pareggio E ora i Genoani Se ne vanno un po' All'inginocchiatoio Vanno in processione Come si dice Vanno a farsi confessare Perché così ragazzi Non può andare sempre bene Alla fine viene fuori Il Genoa fa un gioco Basato sulla fisicità E sull'agonismo Basta E poi c'è Coda Che è molto bravo E la mette dentro E hanno pure un altro bravo Tecnicamente Il resto è agonismo Quindi niente Il Bari Con questa vittoria Pazzesca Che conferma Il rullino di marcia Fuori casa Una squadra forte Fuori casa Ha giocato solo il Bari Oggi con il su tiro Su tiro devo dire Una squadra non fallosa Corretta Corfe play Che si è difesa bene Che ha marcato ormai Che Dira Non riesce più a toccare un pallone È stato bravo Mignani A togliere Che Dira E a mettere All'inizio Ha messo credo Ceter Ha fatto entrare E poi ha fatto entrare Moracchioli Comunque ha rinforzato Con i due d'attacco Con Moracchioli E Ceter Foloruscio Benissimo oggi Bene anche Maita Però poi è venuto a fuori L'intelligenza Del Bari Ecco vorrei parlare di questo L'intelligenza L'intelligenza È una vittoria intelligente È una vittoria Che esprime Ed evidenzia L'intelligenza del mister L'intelligenza del Bari L'intelligenza dei giocatori Del Bari Perché oltre a una capacità Di sopportazione nervosa Del pari Che il pari comunque Andava bene fuori casa Pure col pari Avrei fatto i complimenti Al Bari Perché comunque Ha fatto una partita onesta E bella Poi questa vittoria È un premio Che viene dato Alla prestazione Che mette in campo il Bari È un premio Perché io pensavo Finisse in pareggio Però è un premio Che viene dato Alla prestazione Perché il Bari Oggi ha governato Il campo A Bolzano Ha messo in campo La propria personalità La propria identità Vabbè E niente Quindi questo Ha fatto sì Che pian piano Ci si avvicinasse Alla possibilità Di vincere a noi La partita Invece che loro Se c'era una squadra In campo Che poteva vincere La partita Era sicuramente Il Bari Adesso niente I genoani Vedono Manifestarsi Le loro più recondite Paure Perché A come era facile Vincevano già 2-0 Tu dici Vedi anche I risultati Degli altri E beh ragazzi A questo punto Della stagione Con sei partite Che mancano Mi perdonerete Ma vedo anche I risultati Degli altri Perché i risultati Del Bari Dipendono anche Da quello che fanno Gli altri Naturalmente Gilardino Ne è andata Fin troppo bene Fino adesso Non può andare Sempre bene Mi dispiace Non può andare Sempre bene Quanti minuti Gli ha dato Di recupero A Como 10-8 minuti O 9 minuti Poteva dare 15 minuti Di recupero E niente ragazzi Il Bari Adesso Ha In tasca Una vittoria Che magari Che Come dire Slatentizza Realizza Un'epifania Dei peggiori incubi Dei tifosi Del Genoa Dato per scontato Che Frustinone Comunque oggi Ritorna a vincere E Il Bari Vince 1-0 Fuori casa A Bolzano Io ci credevo Un po' Però Complimenti al mister Complimenti a Moracchioli Perché pensate Che il gol Viene dall'assist Di Ceter E il gol Di Moracchioli Se non è bravura Di Mignani Di un mister Questa qual è? Voi direte Culo Sì Ci può stare pure Perché la fortuna Aiuta gli audaci Mi seguite Ma se il mister Ha 4 punti Dal Genoa Quindi comunque La partita La classifica In salita Il Bari Che si consolida Il terzo posto Però Insomma Diciamo che Una vittoria Il secondo posto Rimane sempre Molto difficile Parliamoci chiaro Il secondo posto Rimane sempre Molto difficile Perché Frustinone Genova Molto probabilmente Andranno come Prima e seconda Molto difficile Che si scardi Nino Anche se l'ultima C'abbiamo Genova Bari Però Tocca fare Una grandissima gara A Genova Noi non ci crediamo Il Bari Comunque Ottiene una Ottiene una vittoria Costruita Con la Intelligenza Di stare Dentro la partita Di controllarla E di avere Un guizzo finale Pazzesco Con Moracchioli Che fa un grande gol E niente ragazzi Torniamo calmi Torniamo sereni Su tiro Non ha fatto Un tiro in porta Come vi ho detto Non ha fatto Un tiro in porta Adesso vediamo Se questo pareggio Avrà un contraccolpo Per il Genova O meno Perché noi giochiamo Sul Genova Io dico sempre Genova Perché il Bari Adesso fa il campionato Sul Genova Quindi È questo il punto Noi facciamo il campionato Sul Genova Mi perdoneranno I tifosi del Genova Per questo astio Ma io non ho niente Contro il Genova Per carità Ce l'ho col Genova Perché sarà secondo In classifica Il Bari sarà terzo Cioè se il Genova Stava in Champions League Che mi fregava a me Del Genova Mi seguite Ma il Genova sta secondo Il Bari sta terzo L'ultima è Genova Bari Per i Genoani L'ultima è già vinta Ma si deve giocare La partita prima Cari amici genoani L'ultima di serie B È Genova Bari Ma la dovete giocare Perché se sono meno Di tre punti Vediamo come va a finire È il bello dello sport È uno sport È un gioco E siamo lì Ci divertiamo Per questo Mi seguite Perché non si sa Se va avanti una Va avanti l'altra Vince una Pareggia l'altra È normale questo È normale È normale Il prossimo Con chi va Il Bari gioca in casa Col Como E il Genoa Dove va il Genoa Il Genoa gioca in casa Col Perugia E vittoria sicura La prossima del Genoa Il Perugia ha perso In casa due partite Quindi Però insomma Vediamo come va a finire Ragazzi Io Sono contento Anche se La serie A Rimane sempre molto difficile Perché il Genoa C'è ancora 4 punti E noi dovremmo andare A giocare playoff Ma in playoff Tutto si riapre Vediamo come va Pisa Cagliari Adesso la classifica Inizia a essere Sempre più interessante Perché il Bari Va a 4 punti Dal Genoa A 10 punti Dal Forsinone Però Prende una lunghezza Di 4 punti Sul Tirol Sul Tirol E comunque Siamo quasi A 8 punti Dalla quinta Quindi insomma Un plauso Va sicuramente Al mister E al Bari Ragazzi Un pollicione Se vi è piaciuto Questo video Ripeto Per i tifosi del Genoa Non prendetevela E calcio E sport Voi siete secondi Noi siamo terzi A chi dobbiamo guffare Noi Mi seguite Possiamo guffare Paris Saint Germain O possiamo guffare Il Milan Quelli fanno Un'altra serie Noi siete secondi Noi siamo terzi Guffiamo su di voi Magari Mi seguite Il Genoa Perugia E uno sicuro Mi seguite Dai Fatemi sapere Come se ne pensate Un pollicione Se vi è piaciuto Il video Iscrivetevi al canale Anche di voi Se è il genere Iscrivetevi al canale Perché sono dei pochi Che parlo di serie B Su Youtube E alla prossima Da Bella Vicious Grazie a tutti